Turati, allora, questa ondata migratoria, tra le altre cose, fa abbassare il livello dei salari? Più che come economista, vi parlerei come critico cinematografico, perché mi sembra che abbiamo visto due film, adesso io ve ne racconto un terzo che forse è ancora meno confortante. Il primo è quello Beautiful, trattati di Roma, tutti in grisaglia a farsi complimenti di come l'Europa ci ha, in certa parte ben conservati in questi 15 anni, anzi in questi 70 anni, ma poi da quando abbiamo l'Euro sono passati circa 17 anni. Poi invece adesso stiamo vivendo shusha, la guerra fra i poveri, perché effettivamente è un problema serio questo qua. La questione è capire, da un punto di vista econometrico, se ci potrà essere una ripresa della produzione e dell'occupazione. Che lei dice, se in questo caso ce la siamo risolta in qualche modo. I signori giustamente parlavano dell'immigrazione meridionale in Italia, quando nel 1958, Nacquio, il PIL italiano faceva più 7% all'anno. Quindi questa era un'immigrazione richiamata. Tra l'altro, scusi una parentesi, il PIL nel 57, cioè noi abbiamo fatto i 60 anni dei trattati di Roma, era 5,5%. Quel periodo lì saliva dal 5% all'8%, quindi così come negli Stati Uniti, quando fu richiamata la prima ondata di immigrazione, perché di là il PIL era più 10% all'anno, aveva bisogno di, e quindi questa era un'occupazione che veniva richiesta in termini di immigrazione. Quindi è chiaro che veniva assorbita molto facilmente, perché c'era lavoro, si creava prodotto interno lordo, quindi questo andava a generare tutta una serie di questioni. Oggi noi dobbiamo prendere in considerazione seria l'eventualità quasi certa che per i prossimi 25 anni non si crescerà più. che l'occupazione continuerà a peggiorare, Bill Gates non più tardi di poche settimane fa ha implorato, se l'ho fatto lui, la tassa sui robot, perché la stima è che nei prossimi 15 anni le macchine porteranno via il 15% dei posti di lavoro, nei paesi non particolarmente sviluppati, addirittura al 30% in quelli particolarmente sviluppati. Quindi questo per dire che siamo di fronte a una prospettiva sia in termini occupazionali per motivazioni tecnologiche, puramente tecniche, sia in certi paesi per motivazione economica. La decolocalizzazione che molti paesi hanno creato, per esempio l'Italia ne è stato un caso tipico, cioè di andare a produrre fuori per poter essere più competitiva con i prodotti, ha generato un percorso di disincentivazione all'occupazione che sarà probabilmente una strada senza ritorno. Oggi questo 11% che poi c'è più 0, meno 0, ma ormai è un dato che è doppio rispetto a 7 anni fa e che sarà il dato migliore che ci si potrà aspettare nel prossimo futuro. Consideriamo i dati di crescita italiana anche previsti da FMI e questa roba qua. Entro il 20-21, benché vada, si parla di un 1%. Quindi voglio dire sostanzialmente una fenomenologia... Quindi con queste previsioni per i prossimi 20 anni, come ce la gestiamo? Con la questione degli arrivi di persone che arrivano dal sud del mondo, dall'Africa, eccetera. Sarà una questione sostenibile in qualche modo? Cioè come potremmo gestirla? La sostenibilità è in funzione del fatto che appunto non abbiamo una necessità particolare di mano d'opera nuova noi in questo momento. Non c'è proprio... Questo è esattamente l'opposto di quello che ha detto Emma Bonino, che ha detto chiaramente gli immigrati ci servono. E questo è un pensiero politico. Poi c'è un aspetto sociopolitico di tipo etico, per cui c'è la guerra quindi dobbiamo farli venire per un altro tipo di discorso, ma di per sé noi non ne abbiamo bisogno. Siamo di fronte a una condizione epocale del mondo che il mondo non ha mai visto in due... Signori, però non fatemi conversazione, poi vi faccio intervenire. Cerca 5 mila anni di civilizzazione, noi stiamo vivendo un momento in cui il valore del danaro è zero, cioè il rendimento del danaro non è mai successo nel corso della storia del mondo, è praticamente sotto zero. Se tu hai dei soldi, oggi tu li dai alla banca centrale, questa te ne dai indietro un pochettino a meno solo per il fatto di poterteli governare. Questo perché? Sostanzialmente perché abbiamo raggiunto il capitalismo mercantile fallendo nella propria progettualità e ha raggiunto un obiettivo che è stato del tutto sbagliato, cioè quello di arrivare a un eccesso di produzione nel momento in cui la ricchezza è stata enfatizzata dalla bolla finanziaria. Pensate che nel 1972, per tanto che c'era di produzione a livello mondiale, il 50% era derivante da carta finanziaria. Quindi cambiali, monete, tutte queste cose qui. Oggi la carta finanziaria rappresenta il 500% della produzione. Cioè praticamente al posto della produzione c'è la finanza? Abbiamo, siamo grossomodo da 5 a 10 volte più ricchi di quanto non dovremmo essere di carta, va bene? E con questa carta sono stati... Ma non di produzione? Certo, con questa carta sono stati creati dei valori sulla borsa, sugli immobili, a Londra i ragazzi costano 70 mila sterline al metro quadro, cioè non è che... ecco, quindi abbiamo creato delle bolle speculative, il capitalismo mercantile maturo e adulterato, ha creato delle bolle speculative talmente fondamentali che c'è solo da temere che non vengano giù tutti assieme, perché tenete presente che noi oggi abbiamo aziende capitalizzate, quotate in borsa come la Google, come la Apple, che messe insieme queste due qui valgono come lo Stato italiano, se voglio dire. È un chip, ragazzi, la Google è un algoritmo. Il giorno che arriva un algoritmo nuovo, sta cosa qui vale zero. Cioè veramente abbiamo raggiunto un livello di... Ma questa cosa è? Un'economia praticamente inconsistente, sostanzialmente. Tenete presente che nonostante il 2008... Ma questa è un'economia inconsistente con il tipo di mercato e di economia italiana, che invece era un'economia... parlo un po' al passato, no? Era un'economia del fare, era un'economia di prodotto. Come si sposa? Vi devo farlo economista, allora, anziché il critico cinematografico, lo faccio volentieri. In un sistema chiuso, i fattori produttivi del... Poi lo faccio concludere brevemente. I fattori produttivi sono il lavoro, il capitale e le risorse. Non risorse, non petrolio, eccetera, eccetera. Il lavoro, ovviamente, che può essere intellettuale, può essere manuale, e il capitale sono gli impianti piuttosto che quelli immateriali. Nel momento in cui a livello europeo sostanzialmente si è chiuso questo sistema, noi abbiamo avuto due competitori, grossomodo, l'Italia e la Germania. L'Italia è il secondo manufattore, manufattore europeo, la Germania era la prima. Allora, in questi 15 anni noi abbiamo avuto un incremento di produttività del 4%, la Germania del 20%, la Francia del 25%. Cioè abbiamo perso il 15% e il 20% di produttività. La produttività che cos'è? E' la produzione, fratto, numero per di addetti. Sì, però anche senza sapere il fratto, voglio dire, i rapporti che lei ha citato vuol dire che ci abbiamo un po' perso. Semplicemente, se noi perdiamo, ma noi siamo meno efficienti dai tedeschi, questo è inutile stare lì a dirlo, ma quindi abbiamo perso il 15% di produttività. Quindi, siccome non è stata possibile svalutare la valuta, cosa abbiamo svalutato? Il lavoro. E infatti, il lavoro degli italiani è sottovalutato rispetto a quello dei tedeschi, il 15-20% nel corso degli ultimi giorni. Ma per tornare a bomba, la questione migratoria incide su questo? Ma non particolarmente, nel senso che incide perché viene a inserirsi in un contesto dove non c'è altra possibilità di poter sviluppare il tutto il numero di lavoro. che, voglio dire, senza nulla togliere ovviamente, non sono economisti, ma sulla propria pelle dicono il signore là diceva, mio genero, mio figlio, stanno facendo dei lavori a prezzi sotto costo. L'abbiamo appena detto. Come dire, rubandosi il mercato, un mercato povero, un mercato di salari poveri, con persone disposte a prendere ancora meno. Il sistema economico europeo ha fatto sì che l'Italia, che era il secondo manifattore, che è il secondo manifattore europeo, dovesse svalutare dal 15 al 20 al 30% anche a seconda dei settori il valore del lavoro.